Agosto, mese con Dio Padre, 6 agosto, dal messaggio del Padre. Se vi sentite freddi e indifferenti, chiamatemi, soltanto con il dolce nome di Padre, ed io verrò a voi. Visitaci, oh Padre. Visito, Padre, la nostra casa, e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i Santi Angeli a custodirci nella pace, e la Tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricominciare da bambini. Dio, che sei per noi Padre e Madre, è tutto. Noi ti ringraziamo per l'umiliante rivelazione del nostro errore. Per questo Tuo ricondurci fra i più piccoli e i più amati. Per questo crollo salvifico della nostra confusione e della nostra ragione. Dispersi e disorientati, dobbiamo ricominciare da capo, come neonati. Come bambini, rarregrarci dei Tuoi doni. Come fanciulli, essere riconoscenti. Come figli Tuoi, sperare tutto da Te. Novena, sesto giorno, la supplica. In verità, in verità vi dico. Se voi domanderete qualcosa al Padre mio, in mio nome, Egli vi darà. Domandate e riceverete, affinché la vostra gioia sia piena. Giovanni, 16-23 Amatissimo Padre, Tu dici nel Tuo messaggio a Madre Eugenia Ravasio che nel ricevere la Santa Comunione Tu stesso avviene in noi in modo tutto speciale e che per noi diventa più facile presentarti le nostre richieste. In quest'attimo di unione con Te, la nostra anima si fonde col Tuo amore paterno. Allora possiamo chiederti ogni cosa, soprattutto una sempre maggiore bellezza interiore e la santità dell'anima. Così beatitudine e luce aumentano in noi. Padre Celeste, fa che io riconosca cos'è opportuno chiederti. Donami le grazie di cui ho maggiormente bisogno. Donameli, ti prego, in nome di Gesù e per intercessione della Santa Madre di Dio. Amen. Decina del Rosario Gesù il cui Padre Celeste provvede per ogni bambino. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.